Mi chiamo Stefano, ho 39 anni e lavoro nel settore chimico per una nota multinazionale occupandomi di controllo qualità. Il mio lavoro consiste in analisi di laboratorio sia chimiche che microbiologiche e analisi a processo sui prodotti finiti e confezionati. In entrambi i casi si tratta di attività certificate ISO 9001. Attualmente, a causa di una chiusura aziendale per cessata attività, ho approfittato di questo periodo di inattività forzata per iscrivermi a un master in sistemi di gestione integrati presso Alma Laboris Business School. Questo master aumenterà le mie conoscenze da un punto di vista gestionale per quanto riguarda il lavoro che ho sempre svolto e aumenterà le mie competenze non solo per quanto riguarda la qualità ma anche per quanto riguarda i sistemi di gestione sull'energia e la sicurezza sul lavoro. Sono sicuro, sono più che certo di avere fatto un'ottima scelta e sono sicuro anche che questo master sarà molto utile per aiutarmi a riposizionarmi nel mondo del lavoro sperando che da questo punto di vista il mio futuro sia il più roseo possibile. Saluti!